Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per perdita di carico verso Bologna tra Calenzano e il VV1 variante. Sempre in direzione nord troviamo un chilometro di coda tra Monte San Savino e Baldarno, questa volta per lavori. Per i cantieri segnaliamo un senso unico alternato sulla SR429 di Valdelsa tra il chilometro 65 e il chilometro 73 nei comuni di Empoli e Castelfiorentino. Il provvedimento è in vigore fino al 30 giugno. Ultima pagina per il traffico ferroviario, l'Intercity 505 20 miglia a Roma Termini sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. Il transito a Pisa Centrale al momento previsto alle 11.27 salvo recupero. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Amsterdam delle 12.15 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!